Musica Musica Nuovamente assieme per la rubrica Insieme Oltre il 2000, quest'oggi è venuto a trovarci in studio Monsignor Attilio Zanderigo Iona, che è decano e arciprete della Cattedrale di Belluno. Bentrovato Monsignore. Bentrovata, grazie. Grazie per essere qui con noi Monsignore per parlare del tempo dell'Avvento. La Chiesa infatti vive questo momento e Monsignore lei ci aiuterà a capire un po' meglio di che cosa si tratta. Cominciamo proprio col raccontare le caratteristiche di questo avvento, di questo tempo, il suo significato. Siamo già arrivati alla seconda domenica di avvento, quella che abbiamo celebrato ieri. E il tempo di avvento ha due caratteristiche particolari. La prima è la preparazione al Natale. Il Natale è certamente un avvenimento che sentiamo in maniera particolare, in tutti i sensi. E in secondo luogo è l'attesa per la seconda venuta del Signore. Cioè quando il Signore alla fine dei tempi tornerà, come ha promesso. Allora è interessante sapere che avvento significa proprio attesa. L'attesa, prendendo la parola nel suo significato più concreto, era l'attesa per l'arrivo dell'imperatore. Ma qui la Chiesa ha applicato l'attesa alla venuta del Signore, in questo tempo. Certo, se vogliamo guardare dal punto di vista antropologico, possiamo dire che l'uomo è sempre una persona in attesa. E ci sono in maniera particolare degli avvenimenti che lo portano ad attendere. Per esempio, non so, l'attesa della nascita di un figlio, l'attesa di un esame, l'attesa dopo aver fatto un colloquio di lavoro. Quindi l'uomo è un essere che è sempre in attesa. Quindi è fortemente caratterizzato da questa attesa. Possiamo pensare a quando nelle nostre case attendiamo un ospite, attendiamo un amico. Quindi questa attesa è proprio particolare. Quindi ecco, l'avvento è questo tempo così, il tempo di attesa. Quindi potremmo dire che finché l'uomo vive è un essere in attesa. E come ci si deve anche proiettare? Come ci si deve predisporre come cristiani a questo tempo? Allora direi che la consapevolezza che noi dobbiamo avere potrebbe essere questa. Il Signore è sempre anche lui in attesa di ciascuno di noi. Quindi, perché tutto poi consiste in un incontro. L'incontro tra Dio e l'uomo, ma anche l'incontro dell'uomo con Dio. Quindi è il Signore colui che prima di tutto ci attende ed è sempre alla ricerca di ciascuno di noi. E poi certo, ci deve essere anche l'uomo che è aperto per questa attesa. Ecco, allora l'uomo direi che in questo tempo di avvento cerca di essere maggiormente sensibile alla preghiera, al silenzio, al saper stare con se stessi, al riflettere cose così difficili ai nostri giorni, visto che siamo sempre oberati e che abbiamo sempre molti impegni, molte attività. Tanta fretta, tutti noi abbiamo sempre tanta fretta. La società forse ci impone anche questi ritmi molto frenetici. Quali sono, Monsignore, le letture, le preghiere che quindi caratterizzeranno anche questi giorni dell'avvento? Allora, torno sulla prima cosa che lei mi ha detto. Se il Signore è colui che ci dona il tempo, noi non possiamo dire che non abbiamo tempo per Lui. Quindi mi pare importante da questo punto di vista saper trovare un po' di tempo per il Signore, che poi alla fine non è tempo che Lui ha bisogno per sé, siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. E in questo periodo, fino al 16 di dicembre, ci sono le letture tolte soprattutto dal libro del profeta Isaia, che era il profeta che ha preparato il popolo per attendere il Messia in maniera particolare. Era colui che aveva detto al popolo che bisognava che si fosse tolto il cuore di pietra e avesse avuto un cuore di carne. Penso che questo sia valido anche per noi oggi, un cuore umano. Che cosa vuol dire un cuore umano? Un cuore capace di amare. Anzi, ancora prima, un cuore capace di lasciarsi amare sia dal Signore sia dagli altri e poi capace di amare, di ricambiare quest'amore. È quello che abbiamo sempre bisogno, perché ogni essere si realizza quando ama e quando è amato. Quindi ecco, in questo periodo le letture sono quelle che ci portano poi a meditare in maniera particolare su Isaia e su Giovanni Battista, il precursore. Poi figura del tutto eccezionale in questo periodo è la Madonna, perché è colei che più di tutti ha saputo attendere e ha saputo accogliere il Figlio di Dio. Come dice Sant'Agostino in un'affermazione abbastanza famosa, la grandezza di Maria non è stata nell'essere madre di Dio, ma nell'essere stata sua discepola, discepola di Cristo. Quindi per questo noi dobbiamo guardare in maniera particolare alla Madonna e dobbiamo anche pregarla e imitarla, proprio per poter avere questa capacità di accogliere il Figlio di Dio e di portarlo agli altri come ha fatto lei. Ecco, Monsignore, l'8 dicembre infatti è una giornata importante per la Chiesa, la festa dell'Immacolata. Sì, è la festa in cui si ricorda che Maria, colei che doveva essere la madre del Salvatore, è stata preservata dal peccato originale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che colei che doveva diventare la madre dell'autore della vita, non poteva avere in sé la macchia del peccato che invece provoca la morte. Quindi il Signore ha voluto che Maria sia veramente una degna dimora, come dice la liturgia, e ha fatto sì che Maria sia senza il peccato originale e di conseguenza senza neppure un peccato personale. E ritornando all'Avvento, Monsignore, c'è un simbolo che tutti quanti noi ovviamente conosciamo, che è quella della corona dell'Avvento, che ci ricorda questo tempo dell'attesa, giusto? Sì, sì. La corona dell'Avvento, che ormai si fa un po' ovunque, è una cosa da noi nata negli ultimi decenni, importata penso dal nord Europa, ma c'è nelle nostre chiese e c'è anche nelle nostre case. Quindi la corona dell'Avvento esprime la gioia della preparazione al Natale. Quindi da un lato queste candele che vengono accese di domenica in domenica in maniera progressiva ci dicono che la luce che viene è la luce di Cristo, è la luce che vince le tenebre, è la luce che vince il male, è la luce che vince la morte. Poi normalmente la corona di Avvento è fatta con dei rami, i rami sono verdi e questi ci indicano la speranza. E direi che soprattutto in questo tempo in cui molte persone sono cupe, sono tristi, sono preoccupate, direi che più che mai dobbiamo saper guardare al Signore per ritrovare fiducia, per ritrovare speranza. E quindi l'impegno, il suggerimento da dare ad ognuno di noi quale può essere? Ognuno di noi penso che in questo periodo possa prima di tutto avere un momento di preghiera personale. Certo, penso che sia privilegiato il momento in cui noi ascoltiamo, il momento in cui noi leggiamo anche personalmente la parola di Dio. Attraverso i moderni canali che abbiamo, la parola di Dio del giorno, che in quel giorno si legge in tutta la Chiesa Universale, facilmente la possiamo trovare. Penso che sia importante anche partecipare alla Messa Feriale, perché c'è un cammino che la Chiesa fa per arrivare al Natale. E quindi sarebbe bello vivere, condividere questo momento. Poi penso che sia importante anche la Novena del Natale, perché ci prepara così alla festa. E direi anche, soprattutto, l'attenzione agli altri, l'ascolto degli altri. Molti mi dicono che poche sono le persone che ascoltano veramente. È vero che ascoltare non è facile, ma dobbiamo sforzarci di essere veramente attenti, soprattutto direi alle persone che abbiamo vicino. Quindi saper ascoltare in famiglia, saper ascoltare per esempio i ragazzi, che i ragazzi hanno bisogno di sentire qualcuno che gli voglia bene. I ragazzi, i giovani, si intende, no? Ma poi anche saper andare verso le persone che soffrono, perché a Natale penso che si riaprano un po' le ferite, perché è il momento in cui ci si ritrova. È un momento speciale il Natale. Sì, è un momento di grazia. Quindi un momento bello, diciamo, dal punto di vista generale, ma per la Chiesa è un momento di grazia. Grazia perché il Signore viene, grazia perché il Signore viene ad abitare nel nostro cuore, grazia perché il Signore viene a far sì che la nostra vita abbia una pienezza di significato. Non siamo vagabondi, ma siamo pellegrini. Il vagabondo è colui che vaga di qua e di là e non sa dove andare. Il pellegrino invece ha ben presente la meta che deve raggiungere e anche i mezzi che sono necessari per continuare e giungere a questo termine del pellegrinaggio. Ecco, Monsignore, voleva aggiungere ancora qualcosa prima di salutarci. Di solito concludiamo sempre con un messaggio, un augurio. Per me prendere un bambino in braccio, soprattutto anche dopo che li ho battezzati, per me è sempre bello. Trovare lo sguardo, gli occhi di un bambino sono proprio belli. Allora ecco, a Natale viene offerto a ciascuno di noi un bambino. È il bambino Gesù, è colui che ci vuole bene. Allora accogliamolo, cerchiamo di volerci più bene e cerchiamo di vivere il Natale portando questa serenità e quella pace che il Signore ci ha portato dove noi spendiamo la nostra vita quotidiana. Grazie, grazie davvero Monsignore per le sue parole, grazie per le sue riflessioni e naturalmente noi ci ritroveremo ancora per tornare a parlare di queste tematiche. Grazie Monsignore. Grazie a lei. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.